L'annuncio dell'angelo Gabriele a Zaccaria Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti da 5 a 25 Zaccaria è un sacerdote ebreo che vive a Dain Karim ed è sposato con Elisabetta Entrambi sono anziani ed Elisabetta è sterile, cioè non può avere figli Un giorno Zaccaria si trova nel Tempio di Gerusalemme Viene scelto per entrare nel santo a bruciare l'incenso All'improvviso gli appare l'angelo Gabriele per dirgli che Elisabetta avrà un bambino E che lui lo dovrà chiamare Giovanni Poiché Zaccaria non crede all'angelo, Gabriele lo convince con un segno Lo fa rimanere muto Così Zaccaria esce dal santo e non può più parlare Trascorso il tempo del suo servizio al Tempio Zaccaria torna a casa e in seguito Elisabetta resta incinta Così Zaccaria è un'unica Così Zaccaria è un'unica Così Zaccaria è un'unica Così Zaccaria è un'unica